Gli eletti sono le persone che fanno le opere e a Gesù non gliene frega niente se crediamo in Lui, non crediamo in Lui, se siamo atei, buddhisti, tutto quello che vuoi. Gli eletti, ovviamente è spiegato benissimo nelle scritture che sono gli eletti, ma poi siccome di questa consolazione, questo consolatore sono anche questi uomini angelo che non vengono solo da altri mondi, vengono da dimensioni spirituali elevatissime anche dal mondo divino. Perché noi di queste cose non ne sappiamo nulla, ma l'universo è fatto così, è un fatto reale, scientifico, le religioni le dobbiamo accartociare, tirare nel cestino, sono un terribile inganno, non l'insegnamento, ma ciò che i ministri delle religioni ci spiegano sono un sacco di frottole, manipolazioni. Quindi gli eletti sono le persone che amano il suo prossimo come se stessi, che significa che io anche per poter amare, prima di poter amare voi, devo amare me. Quindi per poter amare voi io devo avere una vita felice, perché se io ho una vita infelice, come faccio a insegnare agli altri la felicità? Quindi quella via la devo prima percorrere io. Una volta che l'ho percorsa e ho realizzato la felicità nella mia vita, l'equilibrio, la insegno agli altri. Quindi chi sono gli eletti? Sono coloro esseri umani, maschi, femmine, di tutte le razze, che si impegnano con tutte le loro forze per migliorare se stessi e la società. Cioè sono persone impegnate, per piccolo che sia, nella solidarietà, nella politica, nella scienza, nella sociologia, nella scuola, nelle istituzioni, dove ti pare? Persone che vivono una vita etica. Amare? Amare non è un sentimento, amare è uno stile di vita. Amore, quanto ti amo! Quante volte nelle coppie si dice così e poi siamo peggio dei cervi a primavera, come diceva Coccente? L'amore è uno stile di vita, è fare il bene, interessarsi di te, di te. Come stai, cara? Stai bene? Posso fare qualcosa per te? Questo è amare. Non fa chiacchiere. Bla, bla, va, ti amo. L'amore mio mi ha lasciato, guarda, se era l'amore tuo non ti lasciava, se ti ha lasciato non era l'amore tuo. È la cosa più ovvia di questo mondo. E giù i pianti. Ah, mi suicido, l'amore mio mi ha lasciato. L'amore mio mi ha tradito, non era l'amore tuo. Se ti ha tradito, non era l'amore tuo. Cioè, siamo ingabbiati in comportamenti da cretini che ci fanno soffrire, ma non lo dico con supponenza, perché queste cose le ho vissute anch'io. Alla fine mi sono detto, ma perché va tutto storto? E mi sono fermato, ho detto, ci voglio capire qualcosa, perché quel signore lì mi ha detto, esiste una cosa carina, si chiama scienza dello spirito. Se impari quella, la metti in pratica e risolvi tutto. Ma dai. Ma anche i soldi, certo, i soldi sono un'energia di bassissimo livello. I soldi, se gli vai dietro, non li raggiungi mai. Devi fare in modo che siano loro a seguirti. C'è una barzelletta che ogni tanto racconto. C'è sto gatto anziano che cammina per le vie del paesetto, tollo tollo, tranquillo, ne ne frega niente. A un certo punto sbuca nella piazza e vede sto gattino giovane che gira vorticosamente su se stesso. La guarda un po', dice, scusa, che c'è, che c'è, c'ho da fare? No, un attimo, ti fermi, sì, dimmi, che c'è? Ma che fai che giri così come un matto? Eh, mi hanno detto che la felicità è nella coda. Sto cercando di rincorrerla per acchiapparla. Ah, dice il gatto, fai come me. Tu, cammina tranquillo che lei ti segue. Quindi, siccome quando Gesù dice lasciate tutto, seguitemi e avrete cento volte tanto, se ti vai a leggere il passo del Vangelo, lì Gesù comprende anche la materia, i beni. Quindi la legge è di ordine superiore, ma non ce l'hanno insegnate queste cose perché non fa comodo al potere dirci queste cose. Invece ci insegnano un sacco di corbellerie. Quindi gli eletti sono persone attiviste. L'attivista sociale, Peppino Impastato, Falcone Borsellino, padre Alex Zanotelli, Martin Luther King, il Mahatma Gandhi, San Francesco d'Assisi, le Agende Rosse, Salvatore Borsellino che strilla come un forsennato, giustizia. Questi sono gli eletti, persone che fanno del bene e non si interessano solo della loro vita, si interessano del bene di tutta l'umanità. Hanno una prospettiva solidaria. Io... Very...